Ultimo avviso a Lara Croft, quale attuale inquilina dell'immobile. La presente costituisce l'ultimo avviso in merito alla cessazione del suo contratto di possesso del maniero Croft. È pregata di sgomberare i locali del suddetto e di cederne la proprietà al signor Atlas de Nornier, amministratore patrimoniale. Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Come sai, i tuoi genitori mi hanno nominato amministratore patrimoniale in caso di loro assenza. Da quando tua madre è scomparsa, la sua morte non è mai stata dichiarata ufficialmente. E considerando le particolari circostanze in cui è morto tuo padre, non c'è da stupirsi se non ha mai stilato un regolare testamento. Purtroppo non hai alcun diritto legale sulla proprietà. Voglio venirti incontro e negoziare una modesta mensilità dal tuo fondo fiduciario, ma solo se lascerai il maniero entro la fine della settimana. Non farmi da perdonare, tu madre non potrebbe. Ovviamente, Atlas.